Penso che prenderei un van Andrei lì con una mia amica Senza i genitori partirei un pochino per girare il mondo Questa è Radio Immaginaria Nel 2021 gli adolescenti sognano di tornare a viaggiare Se non avessimo problemi di soldi, genitori e scuola di mezzo Quale viaggio ci piacerebbe fare? Se non avessi problemi di soldi io sicuramente farei un viaggio in Islanda Andrei lì con una mia amica, in moto ovviamente e in tenda Io prenderei l'ape con qualche tannica di benzina e dove mi porta il vento vado Se non avessi alcun tipo di problema probabilmente farei la valigia E partirei un pochino per girare il mondo Io vorrei andare a New York sia con i miei amici sia con la famiglia Perché è un posto che non ho mai visitato Andrei a fare tutte le cose tipo andare a vedere la Statue of Liberty Andare su Empire State Building, cose del genere L'avventura del pedapo è un viaggio da Valenza in Piemonte E siamo arrivati a Porto Barricata in Veneto per 10 giorni di viaggio È stata anche una discreta pratica fisica Pedalare su un pedalò piuttosto pesante con tre persone sopra Quali un centinaio di chili di robe la considererei quasi un'impresa sportiva Penso che prenderei un van, lo ricostruirei un po' per poterci vivere dentro E andrei da qualche parte Andrei in Sri Lanka che è un'isola vicino l'India Così che avrei tantissimi soldi per costruire degli hotel giganteschi Il mio viaggio dei sogni è fare l'Interrail con le mie miglior amiche Senza genitori perché le vacanze senza mamma e papà sono sempre le migliori In futuro mi piacerebbe andare a Sydney Pure a Melbourne che è in Australia che sono due città bellissime 4200 chilometri Per skater Da Melbourne a Cairns Per riuscire i soldi per costruire un skatepark in Laos Ora è questo spazio che è diventato molto grande e popolare La prima cosa che il governo ha investito i soldi è un skatepark E questo è proprio qualcosa che ho pensato che potrei mettere insieme Martino e Gordi sono esempi di ragazzi che sono riusciti a realizzare il loro sogno E allora buon viaggio a tutti Alla prossima Ciao Ciao